Ieri pomeriggio si è tenuto un consiglio comunale dove, oltre a vari punti, si è parlato anche di piscina comunale e alla sua variante urbanistica per lo svolgimento dei lavori. Dopo lo stadio Marco Tomaselli, adesso i cittadini nisseni vogliono sapere quando potranno usufruire dell'imponente infrastruttura di via Rochester. La variante è stata approvata, ma a preoccupare è la profondità della vasca che attualmente parte da un minimo di un metro e quaranta per arrivare a quattro metri e quindi con queste misure si escluderebbero sport quali palla a nuoto e nuoto sincronizzato. Il sindaco Roberto Gambino ha precisato che si farà di tutto per dare alla città una struttura completa.